Senza il concetto. Esiste una possibilità di evoluzione senza il concetto di reincarnazione? Commento. È una visione del futuro evolutivo del singolo e dell'umanità molto debole sul piano della logica umana e poco inseribile nel processo evolutivo globale. Senza il concetto di reincarnazione non avrebbero più risposta ai perché essenziali e verrebbe a decadere l'immenso ordine del cosmo a cui apparteniamo.